Perché questa decisione di proclamare lo stato d'agitazione? I dipendenti del Comune di Parre e le organizzazioni sindacali CISL e CGL della Funzione Pubblica hanno deciso di proclamare lo stato d'agitazione in quanto nel Comune di Parre si erano venute a creare delle condizioni di lavoro non proprio ottimali e l'amministrazione aveva proceduto ad un processo di riorganizzazione che non era stato preceduto dal formale, rituale, confronto preventivo con le stesse organizzazioni sindacali. Che cos'è lo stato d'agitazione e che cosa potrebbe comportare? Lo stato d'agitazione è una comunicazione che viene effettuata proprio per le leggi vigenti in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali una comunicazione che deve essere fatta anzitutto all'amministrazione la quale poi procede anche ad informare l'utenza e ad altre autorità che sono tenute e all'autorità che è tenuta a tentare una conciliazione tra le parti. Lo stato d'agitazione sostanzialmente se non ci sono altre iniziative non ha alcun tipo di riflesso sulle attività del Comune. Però senza la proclamazione dello stato d'agitazione i dipendenti non possono neppure proclamare altre azioni di mobilitazione. Azioni che chiaramente verranno attuate nel caso non si avrà risposta alle richieste che sono state fatte all'amministrazione. Quali sono i motivi di questa presa di posizione? Ecco come dicevo precedentemente i motivi sono essenzialmente due. Da un lato un processo di riorganizzazione che riteniamo assolutamente non confacente alle caratteristiche di un ente delle dimensioni del Comune di Parre. Infatti sono stati disegnati nove responsabili di settore con 11 dipendenti e oltre a questo c'è un clima interno che è andato via via peggiorando e che chiaramente non consente ai dipendenti di poter lavorare in modo sereno. Quali azioni avete intrapreso fino ad ora come organizzazioni sindacali? Noi abbiamo anzitutto scritto all'amministrazione comunale al sindaco. Abbiamo scritto due volte a distanza di un mese l'una dall'altra in cui chiedevamo un incontro per poterci confrontare e per poter trovare delle soluzioni il più possibile condivise. Questa era la nostra preoccupazione sia per salvaguardare i servizi che vengono erogati dal Comune sia per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti all'interno della struttura. Noi non abbiamo avuto risposta a queste richieste se non una risposta parziale legata al problema della riorganizzazione che però era oggetto appunto di un confronto. Quindi non siamo stati soddisfatti, non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci direttamente con il sindaco e con l'amministrazione e per questo abbiamo dovuto adottare questa procedura. Naturalmente abbiamo voluto sentire anche il sindaco Francesco Ferrari. Vediamo l'intervista. Sindaco, perché questa riorganizzazione interna e soprattutto in cosa è consistita? Noi avevamo un'esigenza che era quella comunque di ottimizzare il personale dipendente e di risparmiare a livello economico. Il sindaco, in base alla legge, nomina i responsabili dei servizi. Quindi in questa sede ho pensato di ridistribuire le funzioni, ridistribuire i compiti in modo da rendere la macchina burocratica più snella, più efficace e nello stesso tempo ho cercato di risparmiare alcune risorse economiche. Considerato il momento difficile che stiamo attraversando è considerato che dalle istituzioni arrivano continui messaggi appunto di limitare la spesa per quello che riguarda la spesa amministrativa dell'ente. È semplicemente un discorso a livello organizzativo in preparazione poi di quello che saranno i famosi accorpamenti dei servizi con gli altri comuni. In questa logica di distribuzione dei servizi ho inserito anche la giunta comunale. Quindi ho dato ai miei assessori e anche a me stesso dei compiti, delle funzioni in modo da rendere più, come dicevo prima, più snella la macchina burocratica e nello stesso tempo risparmiare delle risorse perché chiaramente l'amministratore per quello che riguarda la responsabilità dei servizi non deve essere pagato. Complessivamente abbiamo risparmiato circa 4.500 euro. Perché questa riorganizzazione non è stata comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali? Ma ecco, io più che chiamarla riorganizzazione, qui non c'è in questo momento nessuna riorganizzazione. si è stabilito o stabilito nell'ambito delle tre aree amministrativa, tecnica e contabile di dare delle funzioni diversificate, qui in proiezione come dicevo prima, in una proiezione poi di accorpare i servizi con gli altri comuni. E non è assolutamente obbligatorio comunicare a nessun sindacato. Sindacati questo invece lo ritengono diversamente. Io anche per il passato non ho mai comunicato quando ho nominato i responsabili dei servizi al sindacato, ma ho dato queste funzioni ai vari dipendenti senza bisogno di ulteriore comunicazione. Perché nonostante le richieste non ha incontrato ancora le parti sindacali? Ma perché, come dicevo prima, la nomina dei responsabili di servizio non implica assolutamente l'informazione sindacale. È una semplice, diciamo, distribuzione di responsabilità di funzioni. Pensavo poi di incontrarli chiaramente successivamente, perché questa è una fase preparatoria poi a quelle che saranno poi l'accorpamento dei servizi con gli altri comuni ed è chiaro che in quel momento vi sarà comunicazione preventiva alle parti sindacali.